Questo programma è offerto da Tecnocampus Mercoledì 15 maggio, buongiorno da Teleprima Benvenuti anche oggi alla nostra quotidiana Rassegna Stampa come ogni giorno offerta da Tecnocampus Anche in questa giornata tanti fatti in primo piano continuano le polemiche all'interno del governo Salvini dice all'altro vice premier di moderare i toni e comunque di smetterla di attaccarsi ma vediamo che intanto si avvicina la data del 26 maggio in vista appunto delle elezioni europee ma vediamo subito i fatti in primo piano e lo facciamo questa mattina col Corriere della Sera e proprio in apertura Salvini e Cinque Stelle andiamo avanti ma basta attacchi Giorgetti in tv è pessimista troppi scontri in intervista alleati divisi lo spread torna a preoccupare andiamo avanti rispettati patti leader leghista Matteo Salvini parla al Corriere indica le condizioni per proseguire l'alleanza di governo con i Cinque Stelle ma Giancarlo Giorgetti frena ci sono troppe liti e intanto senza crescita dieci anni dopo la crisi finanziaria del 1929 scoppiava infatti la seconda guerra mondiale gli errori delle banche centrali di allora uno stato sociale pressoché inesistente ma soprattutto un decennio di protezionismo e di guerre tariffari avevano fatto sì che il collasso finanziario del 29 ottobre 1929 si trasmutasse in una spaventosa depressione crolli del PIL di quasi il 30% disoccupazione di massa con costi sociali enormi che contribuirono al consolidamento di regimi dittatoriali oggi a dieci anni dalla crisi finanziaria del 2008-2009 che aveva fatto a temere ripetersi della grande depressione il mondo si è invece ripreso assai bene tranne qualche colpo di coda protezionista soprattutto tra Trump e la Cina che però sembrano più tattica negoziale che una vera e propria guerra permanente insomma sembra che un passato che ha fatto soffrire tante persone al momento non sia preventivabile anzi al contrario sembra che tutto sia in innovazione e ancora vediamo le altre notizie in primo piano parla il papà della bimba ferita a Napoli Noemi un miracolo resteremo a Napoli se ne vadano i boss ricordiamo che dopo il ferimento della bambina il papà dall'ospedale aveva dichiarato proprio questo quando Noemi starà bene e usciremo da qui voglio andare via da Napoli adesso al contrario il papà più forte di prima dice no perché dobbiamo andare via dalla nostra città se ne vadano i boss e adesso basta e infatti la vera conquista sarà tornare a trovare il coraggio di passeggiare per Napoli perché sia chiaro noi da questa città non ce ne andremo se ne devono andare i camorristi che l'hanno trasformata in zona di guerra è così che al corriere Fabio parla il padre di Noemi la piccola di 4 anni ferita da un killer di mafia ringrazio di cuore d'oro il ringrazio il cuore d'oro dei napoletani e ancora vediamo nella parte centrale della pagina eccoci qua il festival La Palma al divo accusato di sessismo Cannes sorride con gli zombie e litiga su Delon infatti inaugurazione horror al festival di Cannes risate e paura nel film di G. Jarmusch The Dead Don't Die con Tilda Swinton e Bill Murray favola surreale che prende in giro l'America esplode così il caso Delon accusa l'attore francese non merita la palma è maschilista e sessista e ancora dalla prima pagina Dio Agabetti consigliere dell'avvocato aveva 94 anni parliamo di Gianluigi Gabetti morto ieri che non era soltanto un uomo che salvò l'italianità dal controllo della Fiat il che gli costò un'inchiesta e un po' un processo era un po' l'ultimo torinese intanto vediamo l'inchiesta il partiti e la pasta e il nuovo welfare pacchi di pasta e propaganda il welfare dei partiti nell'Italia dei nuovi poveri nelle periferie 2,7 milioni di persone chiedono aiuto per mangiare pensate un po' e nella parte bassa della pagina vediamo che cosa racconta in questa mattinata Massimo Granellini lo chiamavano Capitan Futuro ovviamente stiamo parlando dello sport la notizia che ieri è piombata un po' su tutti facendo ovviamente alzando un polverone e facendo aprire le polemiche infatti per tre lustri Daniele De Rossi è stato il figlio cadetto di mamma Roma lo chiamavano Capitan Futuro soprannome che nacque come augurio e divenne una maledizione il primogenito Totti sembrava la regina Elisabetta e quel futuro non arrivava mai quando Totti ha mollato la presa De Rossi si è trovato Capitan presente a un'età in cui i campioni come lui cominciano ad appartenere al passato la generazione di Platini ne aveva consapevolezza e si ritirava al primo accenno di Fiatone ma con l'evoluzione della specie nessuno si sente più addosso ai propri anni e De Rossi come Buffon e in precedenza del Piero lo stesso Totti non accetta l'idea di essere troppo vecchio per fare il mestiere che gli rende e che gli piace succede anche fuori dallo sport De Rossi è l'artista Ottoagenario che annuncia di continuo il ritiro dalla scena ma difende i suoi spazi dai sessantenni giudicandoli ancora immaturi è il fondatore della ditta che continua a comandare in azienda su figli repressi e nipoti distratti e chiunque voglia e svolga un lavoro gratificante oltre il quale non riesce a scorgere nuove opportunità esistenziali ma solo il viale del tramonto insomma è questo che viene raccontato dallo sport lo sport che comunque a un certo punto decreta il limite perché giustamente il fisico non regge più i ritmi ma continuiamo a vedere le notizie in primo piano lo facciamo adesso con il sole il fatto quotidiano e vediamo nella parte alta della pagina la bugia del giorno di Berlusconi mai fatto l'edito bulgaro se avessi tolto tre puntate a Fazio sarebbe stato un vero e proprio inferno si limitò a togliere Biaggi Luttazzi e Santoro e intanto nella parte alta di questo quotidiano undici anni dopo Casa Pound in Rai il processo all'editore di Salvini è sparito il porto delle nebbie e l'assalto neofascista a chi l'ha visto Eder infatti del movimento fascista e Francesco Potacchi editore di Altaforte dovevano andare a giudizio per minaccia alla trasmissione nel 2011 il Tribunale di Roma dorme per otto anni e fissa l'udienza solo dopo il caso e ancora vediamo previsto a Napoli il vice premier fugge dai fischi niente comizio e nella parte centrale della pagina il nuovo PD Zingaretti vede il condannato Andreottiano che appogge il patto del pomicino o ministro al neosegretario ora i miei amici voteranno per voi e intanto prosegue l'inchiesta Pirellone Fontana il professore della Bocconi in affari con nipote del boss ancora in primo piano le barriere di cemento stop ad autostrada S.P.A. voleva riciclare i jersey e in commissione conflitto di interessi in forse tetto di due mandati morto a 94 anni Gabetti riuscire dei segreti di Agnelli e nella parte bassa della pagina anche qui capitano futuro la società non rinnova lui sceglie l'addio via De Rossi Roma senza cuore ed infine Cina e Timori USA sarà il cannone ad allargare la via della seta ancora continuiamo a vedere le notizie in primo piano ci spostiamo sul quotidiano libero e a quanto pare Di Maio fa il ducetto secondo questa testata si atteggia a padrone dell'Italia leader del Movimento 5 Stelle salito a potere a suon di vaffa dopo aver chiesto l'impeachment per Mattarella e aver tentato di allearsi con i gire gialli si finge adesso moderato ecco un campionario dei suoi orrori ed ancora i casi Fontanessa l'efficienza e cortesia scambiate in realtà per reati secondo l'editoriale di Vittorio Feltri addio a Gianluigi a Gianluigi Gabetti il gentiluomo che salvò due volte la Fiat mentre nella parte centrale della pagina aumentano sempre più le polemiche sulla vicenda che ha avuto per protagonista l'elimusiniere di Papa Francesco infatti se il Vaticano viola la legge è cosa santa il bullismo del cardinale il segretario di Stato Parolin togliere i sigili dalla luce nella casa occupata è una buona azione che ha attivato così le istituzioni e ancora nella parte bassa della pagina restituite centinaia di carte per avere il sussidio il Veneto si ribella al reddito grillino l'ultima beffa 9 richiedenti su 10 beccheranno i soldi senza però cercare il lavoro ed infine nella parte bassa della pagina ce l'hanno con Salvini non con l'editore di Casa Pound stiamo parlando di quelli che vengono definiti da questo quotidiano gli antifascisti che sono più fascisti dei fascisti ancora vediamo le altre notizie ci spostiamo adesso sui giornali Salvini molla i giallocomunisti divorzio in vista Di Maio lo attacca e flerta colpi di Giorgetti dopo il voto vedo la crisi e Berlusconi la Lega vince solo con forza Italia forte e ancora in retroscena le trappole del Movimento 5 Stelle sbarrano la strada al partito di Cairo e il regalo a Genova di Toninelli la mafia sul ponte ancora nella parte centrale della pagina l'addio a Gabetti e per quanto riguarda la Roma maina la bandiera dopo totti scaricato anche dei rossi ancora anche se sono delinquenti rifugiati devono restare qui la Corte di Giustizia dell'Unione Europea infatti sancisce che il riempatrio diventa impossibile proprio se sono rifugiati nonostante tutto è ancora l'analisi quell'ipocrisia dietro i tagli alla politica e nella parte bassa vediamo l'invenzione utilizzata da Amazon pensate un po' il roboi italiano che licenzia adesso gli operai andiamo sempre peggio ovviamente man mano che si sviluppano le nuove tecnologie come diciamo sempre la situazione diventa sempre più precaria per gli stessi individui per le persone quelle in carne ed ossa che raccontano una storia differente soppiantati appunto dai robot rischiano di perdere la loro attività il loro lavoro e ancora nella parte bassa della pagina la trasparenza grillina finisce in nudismo e infatti dopo la Sartia anche Giarrusso inciampa nelle foto hard infine vediamo l'allarme in Australia troppo pigro per riprodursi stiamo parlando del koala che purtroppo già è estinto insomma ancora poco tempo per salvare il koala questo animale così celebre per tante avventure eppure a quanto pare è votato all'estinzione ancora vediamo il tempo la Roma leva il pallone a De Rossi niente rinnovo la società scarica il capitano lui dieci mesi senza chiamarmi avevo capito dopo Totti la proprietà a stelle strisce rottama un'altra bandiera a giallo rossa e la rabbia dei tifosi e ancora vediamo stasera la finale contro l'Atalanta Lazio a caccia della Coppa salva stagione mentre i grillini cercano il PD la Lega in ansia e la Raggi cosa fa? si sveglia sulle piste ciclabili dopo le denunce del tempo la sindaca promette interventi straordinari e questo è il primo obiettivo ed infine nella parte bassa basta fiction che esaltano i bossi a Cannes scoppia il caso Buscetta pure 5 stelle sono stufi di Saviano ancora vediamo le altre notizie in primo piano dalla Repubblica il Ministro torno subito Sabini in ufficio non c'è mai gira l'Italia sugli aerei speciali della Polizia l'opposizione un furbetto e Miniti io c'ero e come tormentava i funzionari intanto Lega e 5 Stelle vogliono lottizzare gli 007 mentre nell'editoriale di Ezio Mauro il fascismo 2.0 e il governo che viene definito governo della paura ancora le banche Unicredit la tentazione tedesca sempre più forte mentre dal Festival di Cannes sfilano le grandi famiglie del cinema e si alzano le polemiche e ancora l'intervesta l'intervesta sala ci serve una sinistra più larga e ancora per la serie tv non posso stare senza sequela ancora vediamo quali sono gli altri fatti scusate in primo piano e ci spostiamo su il messaggero spread Salvini accende la miccia il ministro leghista scusatemi si deve esporare il 3% Di Maio basta sparate differenziale BTP Bunda 283 Giorgetti evoca la crisi dopo il voto non si può continuare così salta il vertice sull'autonomia ed ancora vediamo le altre notizie crescita non parole non si cambia l'Europa con i soliti slogan ma sembra che effettivamente siamo ancora a questo livello ormai siamo quasi vicini al voto eppure si fanno tante promesse si dicono tante parole ma di azioni concrete ancora sembra che non ce ne facciano vedere ancora il club l'ultimo match il 26 maggio io volevo giocare ancora loro no l'addio al veleno De Rossi costretto a lasciare la Roma un'altra umiliazione dopo Totti e intanto vediamo il palazzo occupato controlli di pulizia per le feste abusive agenti in azione dopo il blitz del cardinale beffa per i proprietari inchiesta e stangata Imo ed infine entra telefonando l'insidia whatsapp pensate un po' un hacker nelle chat e nella parte più bassa della pagina la banda dei rom rapina shock a Roma il killer dell'anziana era stato già espulso veramente una beffa proprio per questa vicenda che ha dell'assurdo e del paradossale e ancora vediamo il mattino nella parte alta il lutto gabetti la spalla degli affari e degli agnelli che affidò la fiat a marchionne mentre a caserta la nomina vediamo che è stata nominata infatti la nuova guida della reggia sarà una donna architetto che sa fare rete la vediamo proprio nella foto il festival di cani si arrende al presente compromesso con netflix e intanto nella parte centrale della pagina maltrattamenti sui bambini il triste record in campania rapporto shock dell'autority per l'infanzia prima per violenze su minori al sud pesano i pochi servizi la povertà diffusa e l'età più bassa dei genitori ma a questo punto diciamo caldi fuori di tutto ciò la mancanza di valori e soprattutto l'ignoranza questo è quello che determina la violenza sui bambini non assolutamente le condizioni che si trovano ad affrontare è meglio dirlo a priori infatti la campagna maglia nera in Italia per maltrattamento infantile a rilevarlo l'autorità per l'infanzia l'indice regionale evidenzia infatti una strettissima correlazione tra le violenze sui minori e la povertà economica relazionale ed educativa incide anche l'età dei genitori ed ancora Napoli grande madre lo stereotipo e la realtà ed infine l'inchiesta sull'anguato Noemi la soffiata alla procura del re ha già ucciso in un pub e ancora vediamo nella parte sinistra deficit sfida di Salvini lo spread si impenna si deve sforare il 3% dice Di Maio è un irresponsabile mentre Giorgetti sicuramente la crisi dopo il voto tanto gli slogan non aiutano a cambiare l'Europa mentre per i costituzionalisti statali lo stop alle migrazioni solo a tempo determinato e ancora una buona notizia la buona sanità da Bosco Reale a Viterbo la commozione dei medici figlio si sposa trasportato in ambulanza l'ultimo regalo a Giuseppe malato di SLA questa è una bella notizia che andremo a vedere dopo le idee e mezzogiorno anti briganti che voleva in realtà l'unità d'Italia ed infine nella parte bassa della pagina cosa c'è dietro le accuse del presidente De Laurenti si dice curva in mano e clan la San Paolo la coca scontata ed infine l'ultima bandiera sempre nell'ambito dello sport Roma non si tratta così di De Rossi l'addio l'addio al veleno e ancora vediamo le altre vicende narrate dai quotidiani nazionali in questa giornata con il manifesto vediamo infatti che rompiamo il muro abbonatevi tutti infatti questo invita a fare proprio questo quotidiano e vediamo l'articolo di apertura che titola così diritto di vivere anche se perde la protezione internazionale un rifugiato che rischia la vita nel paese di origine non può essere rimpatriato e questa è la sentenza della Corte di Giustizia europea che smonta una parte importante del decreto sicurezza di Salvini ma il ministro insiste ecco perché l'Europa va cambiata io non cambio la legge e ancora parla Gino Strada siamo dentro un nuovo fascismo mentre Israele al via tra le proteste dell'Eurovision 2019 e sul tema dell'agrochimica Bayer Monte Monsanto Batosta miliardaria ancora cominciamo a vedere le altre notizie in primo piano lo facciamo con il dubbio e vediamo Salvini contro la Corte dell'Unione Europea rifugiati non me li tengo per i giudici i profughi che rischiano la vita non si espellono e Arturo Artom guru di Casaleggio la più grande rivoluzione tecnologica mai vista ora parleremo con i robot e solo questo ci rimane e ancora le sfide nella maggioranza uniti ma solo contro i PD e lo scontro sulle autonomie continua 10 euro per ogni prova pagare per i camerini toglieteci tutto ma non lo shopping infatti potrebbe segnare la fine dell'acquisto compulsivo nei negozi un commerciante di Serzana vuole far pagare per provare i vestiti e contrastare le vendite online ma il pericolo è che così lo shopping compensatorio antidepressione diventi troppo oneroso critiche e polemiche ovviamente questo è il primo piano della giornata non si può assolutamente ragionare in questi termini non si può modificare l'attuale capacità di fare shopping perché altrimenti veramente finiremo in alto mare ancora vediamo i fatti in primo piano questa volta però cambiamo argomento passiamo ai fatti di sport con il corriere dello sport e vediamo oggi il vertice Max Agnelli che può cambiare la Juve una sfida che vale un trofeo e anche un posto in Europa sciolo olimpico la febbre la Lazio può riscattare una stagione negativa e Inzaghi sceglie immobile per l'Atalanta doppio sogno la Coppa e la Champions ed ancora nella parte più bassa la Roma scarica dei rossi la rabbia dei tifosi lo squarcio l'annuncio di Daniele ho rifiutato un ruolo da dirigente voglio continuare a giocare l'abbraccio di Totti è un giorno triste quello che viene definito proprio da questa pagina il cuore strappato ancora vediamo le altre notizie in primo piano questa volta da Tutto Sport Coppa Italia Show una finale contro la Super Lega Juve prendi Cloppa e Pogba intervista esclusiva a Marchese oggi intanto è in programma l'attesissimo vertice fra Agnelli e Allegri per decidere il futuro della panchina bianco-nera ed ancora per il volley eccoci qua finale scudetto Perugia-K.O Lube rimonta da campioni e intanto nella parte bassa vediamo anche il tennis in presa contro Zverev Benettini Berrettini che gladiatore e anche per questa prima parte della rassegna stampa è tutto le notizie in primo piano da retestate nazionali e per quanto riguarda la seconda parte vi lascio qualche attimo di pubblicità ma non andate via perché ritorniamo subito dopo di pubblicità e per quanto riguarda di pubblicità e per quanto riguarda le notizie in primo piano e per quanto riguarda le notizie in primo piano all'incrocio tra caserta e il futuro è nato Tecnocampus un centro direzionale moderno frutto di un ambizioso progetto di riqualificazione industriale che ha messo la qualità del lavoro al primo posto Tecnocampus il nuovo centro direzionale di caserta è collegato direttamente all'A30 Caserta Salerno e dista pochi minuti dal centro di caserta Tecnocampus SRL Viale Lincoln zona industriale ex San Goben Caserta Tecnocampus la soluzione al centro Ed eccoci di nuovo in studio pronti per affrontare quelle che sono le notizie che ci riguardano un po' più da vicino quindi Regione Campania Napoli in particolare ma anche Salerno Benevento Caserta e in particolare la sua provincia ma cominciamo subito a vedere quelli che sono i fatti in primo piano andiamo a vedere la cronaca che arriva proprio da Napoli e si parla di corruzione in atti giudiziari 14 arresti a Salerno ci sono anche due giudici operazione a guardia di finanza dalle prime ore dell'alba infatti dalle prime ore di questa giornata i finanzieri del comando provinciale di Salerno stanno eseguendo un'ordinanza cautelare applicativa della custodia in carcere messa dal giudice delle indagini preliminari proprio del tribunale di Salerno su richiesta della procura nei confronti di 14 indagati tra cui due giudici tributari a cui risulta contestato in concorso e a vario titolo il reato di corruzione in atti giudiziari e poi vedremo tutti gli aggiornamenti nel corso della giornata ancora polemiche per un giro d'Italia che vede escluso il sud infatti il giro d'Italia senza sud furia chiapucci scelta assurda si chiama giro d'Italia quindi il sud dovrebbe essere rappresentato in maniera sostanziale mi pare scontato ci sono state tante tappe che ne hanno fatto la storia così che Claudio Chiapucci non ha dubbi e di fatto condividere la polemica già sollevata nei giorni scorsi che l'ha definito stiamo parlando di Paolo Siani che ha definito questo giro d'Italia nel giro di mezza Italia nel percorso della 102esima edizione della corsa Rosa farà tappa domani solo a San Giovanni Rotondo in provincia di Foggia poi risalirà verso l'Aquina sinceramente mi dispiace continua Chiapucci che per tutti i tifosi è ancora il diablo scalatore generoso e capace di grandi imprese come la vittoria al Sestern Tour de France del 1992 con una fuga solitaria di 192 km che lo hanno reso un beniamino del grande pubblico il Varesino ha un debole per il ciclismo meridionale c'è enorme passione per il nostro sport e un calore speciale personalmente questo pubblico mi ha sempre dato tanto e continuo a farlo anche adesso quando sono ospite di qualche evento insomma polemiche senza fine per un giro d'Italia che in realtà non ha nulla di questa Italia ma solamente una parte di essa insomma siamo divisi non soltanto in ambito politico non soltanto nelle diversità di territorio perché logicamente esistono ma siamo divisi anche nell'ambito sportivo quello che dovrebbe unire ed effettivamente ci vorrebbe una collaborazione fra tutte le regioni italiane non sono una parte della nostra bella Italia ancora continuiamo a vedere la cronaca napoletana 10 ore al pronto soccorso paziente muore dopo due giorni la denuncia dei figli la donna è arrivata in blocco renare a San Giovanni Bosco ed è stata trasferita nella serata al Cardarelli stiamo parlando di una donna di 66 anni che ha prodotto appunto al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli venerdì mattina accompagnata dai familiari aveva febbre ed era in blocco renale sottoposto a prelievi di sangue e controlli di routine i medici hanno riscontrato dopo averle inserito un catetere l'assenza di urine in vescica e San Giovanni Bosco non è dotato di un reparto di urologia per tanti medici del pronto soccorso e personale di triage si sono dati da fare per cercare un ospedale adeguato ad accogliere la paziente una ricerca che è durata però diverse ore durante le quali il figlio della donna riferisce il direttore sanitario Vito Rago si sarebbe più volte spazientito e reclamando con insistenza che venisse misurata la temperatura corporea alla propria madre medici hanno spiegato che era inutile una misurazione molto frequente prosegue Rago allora l'uomo è andato spontaneamente ad acquistare un termometro ma in pronto soccorso di termometri ne abbiamo tantissimi solo alle 21 circa prosegue il direttore sanitario quando non è arrivata alcuna risposta al territorio la donna è stata trasferita al pronto soccorso del Cardarelli con un'ambulanza e questa è la prima ricostruzione che mi ha fatto il personale del triage da me interpellato la paziente arrivata in serata a presidio e vomero alto è stata ricoverata in medicina d'urgenza il sabato pomeriggio visto l'aggravamento delle sue condizioni probabilmente a causa di una setticemia la donna è stata trasferita in rianimazione dove purtroppo è morta nella giornata di domenica insomma veramente situazioni sempre più inquietanti che sembrano non venire incontro ai pazienti e adesso comunque si verificherà la responsabilità o meno di questi medici e del personale sanitario dell'ospedale e ancora vediamo invece buone notizie per quanto riguarda i fatti che arrivano proprio dalle testate nazionali e andiamo a vedere che cosa accade proprio in relazione a tante situazioni di oggi ovviamente prima di passare a questo però vediamo ancora una notizia che arriva da Ischia il padre del 17enne morto in un incidente stradale ragazzi dice non siate un pericolo per gli altri insomma un monito per tutti lutto cittadino all'acquameno per i funerali ai domiciliali il ragazzo che guidava la Fiat Panda responsabile dell'impatto l'accusa di omicidio stradale domani noi genitori con immenso dolore sta parlando della giornata di oggi ci troveremo ad affrontare la prova più dura chiediamo a tutti coloro che vorranno manifestarci la loro vicinanza di abbracciarci semplicemente con la loro presenza speriamo di avere la forza di abbracciare tutti i ragazzi nei quali rivediamo nostro figlio nei quali riponiamo la speranza che domani nessuno sia l'uomo dell'altra corsia è proprio questo l'appello che lancia dal suo profilo facebook un messaggio di profonda dignità in compostezza Leonardo Tagliercio papà del 17enne Francesco morto la notte tra il 9 e il 10 maggio a Ischia mentre guidava uno scooter in direzione l'acquameno a seguito dell'impatto con una Fiat Panda che secondo le ricostruzioni dei carabinieri avrebbe invaso proprio la corsia opposta insomma cerchiamo di prestare più attenzione nel momento in cui ci mettiamo alla guida non è un gioco assolutamente no ma noi troppo spesso lo reputiamo tale e guidiamo senza considerare che sulla strada non ci siamo solo e sono noi ancora vediamo gli altri fatti in primo piano ancora cronaca anche da questa testata che è il mattino la corruzione in atti giudiziali della commissione tributaria 14 arresti in Campania e sempre dal sud dell'Italia vediamo proprio un allarme l'infanzia violata la Campania capitale dei maltrattamenti e infatti più poveri con meno servizi e per questo più maltrattati l'amaro destino di tanti troppi bambini campani lo dimostra la seconda edizione dell'indice regionale sul maltrattamento infantile nel nostro paese è elaborato dal CESVI una delle organizzazioni umanitarie più presenti sul territorio che partendo dai dati dell'Istat ha selezionato 64 indicatori rispetto a 6 capacità cura di sede e gli altri vivere una vita sana vivere una vita sicura acquisire conoscenza e sapere lavorare accedere alle risorse e ai servizi il rapporto è stato presentato alla Camera dei Deputati con la di CESVI Daniele Barbone l'autorità grante per l'infanzia e l'adolescenza Filomena Albano considerando infatti tutti questi elementi pur facendo registrare un piccolo miglioramento sia sui fattori di rischio e sui servizi non è riuscita a schiodarsi dall'ultimo posto in classifica restando al di sotto della media nazionale per tutte le voci mentre alla regione dove si registrano le migliori performance si conferma l'Emilia Romagna e ancora vediamo gli altri fatti in primo piano parliamo ancora una volta di Noemi e della rivelazione sul killer quel sicario ha già ucciso in un pub alla Riviera è infatti un killer a servizio del gruppo Marignano un problem solver uno che in un recente passato aveva già fatto fuoco tanto da consumare l'omicidio su commissione dove in un pub lungo la Riviera di Chiaia sempre in nome e per conto del presunto boss di San Giovanni Antonio Marignano e questa l'imbecata una soffiata nel senso classico del termine che arriva appunto agli inquirenti sul conto di Armando del Re il 29enne accusato di aver sparato proprio il 3 maggio e di aver colpito la bimba di 4 anni Noemi ormai divenuta famosa un po' ovunque ancora vediamo le altre notizie in primo piano Vomero furti con la tecnica del giornale o della giacca ha fermato uno specialista è un senza fissa dimora a 47enne di Napoli Armando Leone è stato fermato dai carabinieri a stazione Vomero a Renella per furto a Gramato e utilizzo in debito di carte di credito il 14 marzo è entrato in una gioielleria di via Luca Giordano con la scusa di comprare un bracciale non gradendo quello che gli aveva mostrato il gioielleria ha chiesto di vederne un altro il gioielleria a quel punto ha aperto un'altra vetina appena si è portato di spalle Leone gli ha rubato lo smartphone che teneva sul banco un 11 aprile poi fingendo di essere interessato a fare shopping in un negozio di scarpe in via Scarlatti ha rubato la borsa che una cliente aveva lasciato su un divanetto mentre provava dei capi la borsa in pelle ha un valore di 1200 euro lo smartphone che c'era dentro 300 euro inoltre c'erano gioielli e contanti il bottino totale è stato di 4000 euro e i furti non sono terminati qui anzi è andato avanti e ha proseguito nel suo piano criminoso probabilmente questo era il suo modo per voltarsi e raccogliere quanto più possibile ancora vediamo le altre notizie in primo piano vediamo da Casa Pesena un patto politico mafioso chiesti 10 anni di carcere per l'ex sindaco il PM Fortunato Zagaria per il PM Fortunato Zagaria faceva parte del clan dei Casaresi invocati 5 anni per il boss Michele Zagaria infatti vediamo che era il Fortunato Zagaria che era partecipe al clan dei Casaresi così il pubblico ministero Maurizio Giordano della DDA che al termine della sua requisitoria ha invocato 10 anni di reclusione per l'ingegnere ex sindaco di Casa Pesena e 5 anni per il capo clan dei Casaresi Michele Zagaria per le minacce aggravate del metodo mafioso ad un altro sindaco di Casa Pesena Giovanni Zara chiesta l'assoluzione invece per l'altro imputato ossia l'ex consigliere comunale Luigi Amato ed ancora vediamo gli altri fatti in primo piano buone notizie per la reggia di Caserta finalmente è stata nominata alla guida che prenderà il posto di Fericori e infatti il ministro Bonisoli titola proprio così Caserta News sceglie una donna alla guida della reggia architetto e docente universitario si chiama Tiziana Maffei è stata nominata appunto direttrice della reggia e vediamo infatti presidente Icom Italia International Council of Museum dal 2016 e docente universitario sarà la nuova direttrice della reggia di Caserta il ministro dei beni e attività culturali Alberto Bonisoli ha infatti sciolto la riserva sul nome delle rete dell'ex manager Mauro Fericori nei giorni scorsi il ministro aveva infatti ricevuto per i colloqui tre finalisti per la carica di direttore del Palazzo Reale bene patrimonio dell'UNESCO e simbolo di Caserta per la reggia di Caserta hanno rimasti in lizza Mario Epifani storico dell'arte Francesco Palumbo direttore dell'agenzia regionale del turismo in Toscana e Tiziana Maffei architetto e docente universitario di comunicazione dei beni culturali all'Università di Bologna essere selezionata è stata proprio quest'ultima ancora vediamo gli altri fatti in primo piano andiamo a vedere quelle che sono le notizie che vengono riportate dalle altre testate locali e andiamo proprio a vedere questa mattina che cosa racconta un'altra testata che è appunto il Corriere di San Nicola dove parla di un avvenimento relativo alla scuola De Filippo che ha vinto il premio nazionale della De Agostini infatti la scuola primaria dell'istituto comprensivo De Filippo ha vinto il concorso nazionale come era come è indetto nel novembre dello scorso anno dalla famosa casa editrice De Agostini di Novara avente finalità sociali e ambiente riservato alle scuole dell'infanzia ed elementari dell'intero territorio nazionale la premiazione si è svolta lunedì 13 maggio ad Avellino alla presenza del vicepresidente della regione campare assessore regionale all'ambiente Fulvio Bonavitacola dell'assessore alla pubblica istituzione comune di San Nicola la strada Maria Natale di rappresentanti scolastici della casa editrice organizzatrice e del saggista etologo Gianni Ravazzi dalla cui collaborazione con la De Agostini ha preso corpo il progetto di sottoporre gli alunni italiani a una sfida nella conoscenza dell'ambiente naturale nell'ottica di riflettere sensibilizzare e dare una risposta allo stato in cui il pianeta è ridotto purtroppo non è ridotto bene il nostro pianeta ma almeno i giovani anche i più piccoli incominciano a verificare e vedere che cosa possono fare per migliorare questa situazione e per quanto riguarda la rassegna stampa siamo arrivati all'ultima notizia ossia all'ultimo momento quello che vi voglio ricordare è che questa sera alle 20 e 30 da Viterbo ci sarà la partita in cui si sfideranno la Golden Tule Popolato 2.0 la squadra di volley femminile di patron Nicola Turco tutta Casertana e la squadra di Orvieto l'obiettivo è quello di vincere e riuscire così ad entrare nel sogno della Serie A già ha vinto la partita di domenica la partita di andata adesso c'è la seconda partita se andrà tutto bene oggi potremo festeggiare insomma noi facciamo un in bocca al lupo a questa squadra e a tutto lo staff tecnico che al momento è già in in zona Viterbo proprio per affrontare questa grande sfida in bocca al lupo a tutti e per oggi termina qui la rassegna stampa vi ringrazio per aver scelto Teleprima per aver scelto la nostra informazione ringrazio anche Tecnocampus che come sempre ci offre la possibilità di commentare i fatti in tempo reale a voi tutti un grazie e ancora l'augurio di una splendida giornata vi rinnovo l'appuntamento alla giornata di domani ciao a tutti grazie a tutti Questo programma è stato offerto da Tecnocampus Grazie per la visione